A Bari arresti domiciliari per l'ex giudice Francesco Bellomo è accusato di maltrattamenti e distorsioni nei confronti delle sue allieve alle quali imponeva attacchi e minigonne. Indagato anche per aver calugnato il premier Conte. Ce ne parla Elena Fusai. C'è anche il dress code che le borsiste avrebbero dovuto rispettare nelle 100 pagine di ordinanza firmate dal giudice di Bari che ha deciso gli arresti domiciliari per Francesco Bellomo, ex giudice del Consiglio di Stato, docente e direttore dei corsi post-universitari per il concorso di magistratura della Scuola di Formazione Giuridica Diritto e Scienza. Bellomo è accusato di maltrattamenti nei confronti di quattro donne e distorsione aggravata ai danni di un'altra corsista. Alle ragazze era imposto un contratto che prevedeva una serie di obblighi e divieti, scrivono gli inquirenti, tra i quali la fedeltà nei confronti del direttore scientifico e il divieto di relazioni con fidanzati che non fossero ritenuti donne e dallo stesso Bellomo. Nell'ordinanza si elenca l'abbigliamento che le giovani avrebbero dovuto indossare due i livelli, quello estremo con gonna molto corta o vestito di analoga lunghezza con maglina o maglioncino, il look intermedio o classico con tailleur sopra il ginocchio e camicetta. Condotte di sopraffazione per la procura che Bellomo avrebbe messo in atto riducendo le donne in stato di soggezione psicologica. L'ex giudice ha indagato anche per calunnia nei confronti del premier Conte quando era presidente della commissione disciplinare chiamata a pronunciarsi su di lui. Bellomo lo aveva citato in giudizio incolpandolo di aver esercitato in modo strumentale il suo potere in un intento persecutorio.